Ciao ragazzi, oggi in questo nuovo video siamo a Castel Sardo che è un punto veramente turistico qui nel nord Sardinia e è un piccolo villaggio che è davanti al mare, quindi andiamo e vedremo come è a Castel Sardo, c'è anche un porto turistico e è pieno di bocci a parte del porto c'è anche una torre medievale e lì c'è Castel Sardo, sulla roccia Grazie a tutti and now let's move into the streets of Kastelshar now I'm into the central square of Kastelshar and now I'm going into the ancient medieval castle of this town and now let's go into the city of Kastelshar and now let's go to Kastelshar c'è anche una città antica qui in Castel Sardo e voglio mostrarvi anche questo, ora andiamo penso che queste cose particolari sono usate nel passato per prendere i pezzi grazie a tutti 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 spero che ti piace la piccola città di Castel Sardo e lo vedremo nel prossimo video bye